I sacerdoti secolari e religiosi e le religiose votati alla vita attiva ma anche alla vita interiore partecipano allo stesso potere che le anime del chiostro hanno sul cuore di Dio. Ne sono esempi magnifici un padre Chebier, un don Bosco, la beata Anna Maria Taigi che nelle sue funzioni di povera massaia era un'apostola come l'ora San Benedetto Giuseppe Labre che schivava le vie battute. Uno dei passaggi della celebre opera L'anima di ogni apostolato dell'abate Jean-Baptiste d'Eurthe dedicati ad Anna Maria Giannetti Taigi, laica trinitaria e madre di sette figli della quale ricorre oggi la festa liturgica. La beata Taigi che era nata a Siena ma visse la maggior parte della sua vita a Roma da semplice madre di famiglia e domestica della famiglia Chigi, ricevette secondo quanto riportato dal celebre abate trappista nella sua importante opera Liv de Chevette, decine di santi tra i quali Pio X, singolari doni soprannaturali, di sapienza e discernimento spirituale e di profezia, soprattutto sui gravi problemi religiosi e politici del tempo. A lei ricorsero vescovi, cardinali e papi e uomini di Stato per ricevere consigli. Beatificata da Benedetto XV nel 1920, Anna Maria Taigi fu terziare dell'Ordine della Santissima Trinità e sotto la direzione spirituale di Monsignor Raffaele Natali, allora segretario del Maestro di Camera di Pio VII, condusse una vita umila e austera penitenziale. Il prelato marchigiano visse ospite della Taigi per circa venti anni e quindi fu testimone oculare di numerosi fatti straordinari che ne intesserono la vita. Nell'archivio della chiesa di San Carlo a Roma, tenuta dai padri trinitari, vi sono conservati alcuni volumi che lo stesso Natale scrisse, in parte durante la permanenza in casa della Beata, in parte dopo la sua morte. Nel 2005, una studiosa appartenente al laicato trinitario, Giovanna Cossu Merendino, ha raccolto questi scritti in un poderoso volume intitolato Le Misericordi di Dio verso le sue creature. Beata Anna Maria Giannetti Taigi Nell'introduzione rileva come nel nostro tempo di crisi, di valore, di divorzi, di aborti, di sperimentazioni su embrioni umani, di unioni irregolari, la figura di questa donna appare quanto mai attuale, la fedeltà alla forza con cui visse la sua non facile condizione familiare, rappresentata un prezioso, un richiamo, un valore della famiglia all'amore per le piccole cose, all'amore di Dio, non a caso il convegno che l'Associazione San Giovanni de Mat, dei laici trinitari d'Italia, attenuto l'anno scorso a Roma, è stato proprio dedicato al tema Le radici spirituali e culturali della crisi economica in atto. Nella sua relazione la Cossu ha rilevato che dalla carità che riceveva la Beata Taigi tratteneva soltanto l'indispensabile per le necessità della famiglia, perché il resto lo distribuisce tra chi è più povero di lei e si umilia a chiedere lei la stessa elemosina vedendo che non sono sufficienti le sue risorse per soccorrere i bisognosi. A venti anni Anna Maria Giannetti aveva sposato Domenico Taigi, un servitore della famiglia Chigi, dal cui matrimonio nacquero ben sette figli. Per far sì che la figura e l'opera della Beata siano conosciute e servire ad esempio per i laici e le madri di famiglia di oggi, la Cossu sottolinea anche questa straordinaria laica vissuta nella Roma dell'Ottocento, sia la prima donna popolana che ha raggiunto la perfezione cristiana nella vita matrimoniale. Prima di lei molte donne hanno avuto gli onori degli altari, ma non erano sposate, oppure erano vedevo e religiose, regino principesse. Il marito della Beata guadagna appena sei paoli al mese, ma la povertà non è un ostacolo per la loro felicità, perché non sono soli, il matrimonio è composto da tre persone, c'è Gesù con loro. Ecco una delle grandi mistiche dell'Ottocento, una persona che realmente, intanto noi ringraziamo la fonte che è Vatican Insider, per l'autore della biografia, che è Giuseppe Brienz, appunto per il sito santiebeati.it. E naturalmente basterebbe solo quest'ultima frase del biografo, appunto che nel matrimonio si è sempre in tre, e Gesù è uno dei tre, appunto. Quindi per far capire quanto la situazione definita dal divorzio, dalla separazione in se stessa, sia una separazione da Dio. Quindi nessuno entra nel merito delle questioni personali, delle forzate divisioni che possono essere in famiglia. Quindi nessuno prende in esame i casi singoli, e nessuno poi va ad additare quelle che sono le separazioni e la volontà dei coniugi, ma rimane comunque un fatto. Il matrimonio è un'unione che si ha con Dio, questo sacramento, e appunto ciò che noi leghiamo con il Signore non lo slegheremo mai. Vi sono correnti di pensiero in cui sacerdoti che si legano a Dio, suori che fanno botto di brutti perpetui, che poi lasciano, si sposano, e sono tutte cose che ognuno nella propria libertà è libero di fare. Quindi noi all'uomo, all'essere umano, chiunque non possiamo mai negare la libertà, sarebbe come veramente andare contro le volontà di Dio, perché è Dio stesso che lascia liberi le persone. E lascia liberi le persone anche di poter seguire questi esempi, come Anna Maria Taigi, che è stata appunto, come dice il biografo, fortemente una persona che ha influenzato i potenti, un po' come era la grandissima Santa Caterina da Siena, anche se poi Santa Caterina era una persona che ha vissuto il misticismo, ha vissuto quel qualche cosa di molto diverso, erano tempi diversi in cui quei 500 anni hanno un po' rivoluzionato la Chiesa, il modo di essere. Quindi Anna Maria Taigi è stata grandissima, perché comunque le sue profezie sono ancora oggi a distanza, i due secoli sono attuali, sono prese molto in considerazione, le sue preghiere, ricordiamoci la famosissima corona del Cento Requiem, che servono per le anime del Purgatorio. Ecco, questa relazione che noi abbiamo, questa massima relazione che noi abbiamo con quelle anime che sono in quella condizione di espiazione, quelle anime sante del Purgatorio che sono in condizione di espiazione e che hanno bisogno appunto delle nostre preghiere, quindi anche la giaculatoria che si inserisce in quella devozione ci fa capire quanto appunto sia un rapporto unico e sia un rapporto forte quello che noi instauriamo con le anime del Purgatorio. Quindi Gesù ebbe a dire a una mistica, se tu sapessi quello che passano le anime del Purgatorio, offriresti tutti i giorni tutte le devozioni possibili per farle penare il meno possibile, perché poi quelle anime saranno quelle che noi beneficeremo perché li abbiamo aiutati. Ecco, Dio non dimentica nessuno, Dio non lascia passare niente, come può essere inteso anche nella sua eccezione negativa, tutto quanto sarà comunque bagliato davanti al Tribunale di Dio e sia così nel negativo, ma soprattutto nel positivo. Quindi il nostro rapporto con le anime del Purgatorio deve essere assolutamente fondamentale, non possiamo appiattirci a discorsi un po' eretici come quelli dei protestanti, che per loro insomma vedono il Purgatorio come un qualche cosa di poco credibile, perché la Sacra Scrittura non ne ha dato una definizione molto certa. Quindi la grandezza di Dio sta proprio appunto nel riberarci nel tempo quelle che sono le situazioni in Purgatorio. Poi sappiamo che il Purgatorio o i problemi che ci sono col limbo legato al fatto dei bambini che non nascono col battesimo, queste sono cose teologiche che ha già affrontato Papa Ratzinger, delle quali poi alla fine non si è mai venuto a capo. A prescindere da questo, comunque vi invito caldamente a ricercare su Google o appunto in libreria o magari anche nelle librerie Paoline i testi della Anna Maria Taigi, perché dobbiamo sicuramente così intendere che queste persone non solo erano dei mistici dell'altro tempo, ma sono persone che parlano ancora oggi. Se noi prendiamo le apparizioni di Madre Mariana, la Madonna di Chito faceva rivelazioni a distanza anche di 5-600 anni, quindi è tutto attuale, per Dio non esiste un Dio di ieri, di oggi, di domani, il Dio di sempre. Quindi Anna Maria Taigi, che ci ha portato veramente a comprendere che cosa siano le anime del Purgatorio, chi siano le anime del Purgatorio, intercedi per loro affinché loro possano intercedere per noi quando saremo davanti a Dio, ma soprattutto quando saremo a compiere quelle azioni che Dio ci chiederà in relazione al bene che abbiamo fatto alle anime del Purgatorio. Grazie.